ciao ragazzi benvenuti a questa nuova sezione delle mie lezioni che non saranno lezioni ma solo consigli nei quali vi mostrerò come non fare un setup al bus che come vedete i miei bassi sono molto tenuti bene perfetti scherzi a parte dopo tante richieste ricevute voglio mostrarvi passo passo insieme ad una guida che sto facendo scritta tutto quello che so riguardo alla manutenzione e a qualche modifica qualche personalizzazione di un bus elettrico vedremo sia fretless che con i tasti quindi setup cambio corde cambio pick up cambio manici cambio tutto e vi aspetto cercherò di spiegarvi nel mio piccolo come sempre ovviamente senza voler far passare il messaggio che io sia di utai o un giro a me perché non lo sono lo premetto ho solo tanta esperienza anche questo campo diciamo sono divertito da rompere di tutto e dopo aver rotto di tutto qualcosina ho imparato quindi cercherò di darvi qualche consiglio non me ne vogliano gli utai però qualche cosa a volte si può fare da noi senza dover per forza ricorrere a un professionista del settore quindi ora riceverò una marea di insulti però mi avventuro in questa nuova avventura bellissimo e vi aspetto quindi alla prima puntata di questa nuova serie del mio canale